Musica Bentornato Goodyear, bentornata La volta scorsa ti ho accennato a come realizzare un backup Ora iniziamo a vedere come eseguire un ripristino Cosa vuol dire ripristinare un computer Quando hai qualcosa che si guasta Che può essere di norma di fisico Puoi tentare di ripararla oppure sostituirla comprando in un'altra Un computer compromesso può avere infatti danni fisici Hardware e quindi devono essere sostituiti Oppure può accadere che qualche bit faccia capricci E comprometta il funzionamento di programmi Nella fattispecie il sistema operativo Nel primo caso se hai un problema hardware Naturalmente andrai a sostituire il pezzo Il componente andato in avaria Nel secondo caso invece se il problema è del sistema operativo Puoi tentare di sistemarlo in vario modo Puoi ripristinare il sistema operativo Sfruttando l'opzione ripristina configurazione di sistema Puoi ripristinare l'avvio del sistema operativo Qualora fosse solo questo il problema Potrai ripristinare tutto il sistema operativo Da un file immagine creato in precedenza E qui nella lezione precedente hai compreso come eseguire Puoi avviare il sistema operativo seguendo l'ultima configurazione di avvio Nota ed efficace Oppure in maniera più drastica potrai reinstallare il sistema operativo su se stesso O infine drasticamente ancora di più Formattare e reinstallare tutto Sistema operativo, driver e programmi Le ultime due realtà Quindi formattazione e reinstallazione Del sistema operativo Te le cito soltanto Perché rientrano sempre in una metodologia Per riutilizzare il computer Qualora esso non si avvii correttamente Ma non è il caso di un vero e proprio ripristino Quindi per quel che riguarda le ultime due opzioni Ti rimando alla consultazione delle lezioni 49 e 50 Per la formattazione e 54, 55 e 56 Per la reinstallazione del sistema operativo Compresi naturalmente i video tutorial Andiamo a vedere cosa accade nel ripristino Configurazione di sistema Cosa esegue? In pratica riporta il sistema operativo Ad uno status che possedeva lo stesso Ad una determinata data ed ora Di fatto annulla tutte le modifiche Che sono state eseguite nel sistema operativo Quindi tutto ciò che hai prodotto All'interno del sistema operativo Dopo la data del ripristino che avrai selezionato Quindi in pratica verranno rimossi tutti i driver Eventualmente i programmi Se sono stati installati dopo tale data Rimangono però inalterati tutti i dati personali Come i documenti, le immagini, video, musica, presentazioni, messaggi Di posta elettronica e tutto ciò che riguarda a livello personale In definitiva si ripristinano le impostazioni ed i file specifici E esclusivamente del sistema operativo Attinenti al sistema operativo Puoi scegliere tale ripristino Se il tuo sistema ha subito un blocco o un degrado delle prestazioni Dopo aver installato magari qualche programma o qualche driver Questa procedura utilizza dei punti di ripristino Che sono creati manualmente o automaticamente Da parte del sistema operativo in maniera ciclica O quando viene eseguita una modifica al sistema operativo stesso Un punto di ripristino cos'è? È uno stato tipo un'istantanea Una fotografia delle sole impostazioni e dei file specifici del sistema operativo Questa istantanea è archiviata in una determinata sezione All'interno del sistema operativo Per essere ripescata poi E riposizionata per sostituire un punto precedente E non funzionante o funzionante in maniera non funzionata Corretta Ciò con lo scopo è ovviamente di riportare alla piena funzionalità del sistema operativo Agendo però, come detto, solo sui file del sistema e sulle sue impostazioni Banalmente è come se tu avessi un'automobile con il motore compromesso Vai a sostituirlo con tutte le problematiche del caso Con uno usato E verosimilmente la funzionalità della macchina e dell'autovettura È assicurata con questa sostituzione, con questo ripristino La procedura di ripristino configurazione sistema è automatizzata Ma manualmente comunque dovrai avviarla ed individuare il punto di ripristino Ossia la data e l'ora al quale ripristinare il sistema operativo Normalmente al verificarsi di un problema La scelta ricade proprio su un punto di ripristino Più recente e ovviamente antecedente all'inconveniente che si è andato a creare Quando si presenta un problema però È bene che non attenda che trascorrano dei giorni Ma intervieni immediatamente o nel più breve tempo possibile Per isolare il problema Questo perché no Per evitare che si possano creare situazioni ancora più gravi Con il passare del tempo Una volta eseguito il ripristino Se gli esiti non sono quelli aspettati È possibile annullare l'ultimo punto di ripristino eseguito Oppure sceglierne un altro che è più recente A quello che avrai selezionato eventualmente O più lontano sempre che sia disponibile Dopo aver ripristinato il sistema Dovrai ovviamente installare o aggiornare eventuali programmi Alle nuove versioni E inserire anche gli aggiornamenti del sistema operativo Tutto ciò che quindi è stato rilasciato Dopo la data di ripristino che avrai selezionata Ma come si avvia Il ripristino di configurazione sistema Hai diverse opportunità Qui in figura ne è rappresentata una Accedendo a utilità di sistema da tutti i programmi Ma ce ne sono almeno tre Nel primo caso avvia il pannello di controllo Seleziona backup e ripristino Come abbiamo visto la volta scorsa Per creare un file image Un backup Nella sezione che si aprirà Individua ripristino alle impostazioni di sistema O l'intero computer E nella successiva schermata Clicca ovviamente per avviare Il ripristino di configurazione di sistema Altra strada Clicca su start E accedi a tutti i programmi Poi individua la cartella accessori E ulteriormente la cartella utilità di sistema Troverai il pulsante Ripristina configurazione di sistema Ultima possibilità che ti cito È ovviamente sempre cliccare su start E nel campo di ricerca Che si presenta a vuoto Digita ripristina configurazione di sistema Non appena inizierai a digitare questi caratteri Già è possibile che tu avrai in visione la scritta Ripristino configurazione di sistema Naturalmente cliccaci sopra A seconda della modalità che avrai scelto Comunque si presenterà più o meno questa schermata Dal quale potrai accedere a ripristino configurazione di sistema Cliccando su questo pulsante Si presenterà a te una lista di date Qualora ne avessi soltanto una Clicca su questo segno di spunta Per mostrare tutti gli altri punti di ripristino E naturalmente vai a scegliere Quello che più ti conviene In base alla data e in base all'orario Qualora ne avessi più di uno Dopodiché clicca pure su avanti Dopo che hai scelto il punto di ripristino Ad un certo punto avrai il riepilogo Della selezione eseguita Quindi data ed ora E ciò che andrai ovviamente a ripristinare Cliccando su fine Si avvierà la procedura di ripristino Il tempo potrà durare pochi minuti Naturalmente Dovrai soltanto monitorare le operazioni E assecondare il riavvio del sistema operativo Tutto quanto avverrà in maniera Come detto Abbastanza rapida Nell'arco di pochi minuti E se tutto è andato Come si prevede Il sistema operativo sarà stato ripristinato A quella determinata data ed ora E tutto tornerà a funzionare Altra possibilità di ripristino È ripristino all'avvio Qualora tu abbia problemi Esclusivamente Ad avviare il sistema operativo Prima di percorrere altre strade Puoi attingere a questa opzione di ripristino Tenterai di ripristinare La fase di avvio del sistema operativo Questo perché a volte Capita che alcuni file Siano andati persi O siano stati corrotti A causa magari di qualche malfunzionamento O qualche malware Quindi ripristinare questi file Ti permetterà di nuovo Di accendere e avviare Il sistema operativo Completamente funzionante Anche in questo caso La procedura è abbastanza Autonoma ed automatica L'avvio deve avvenire Inserendo un disco di ripristino Infatti dovrai Impostare nel BIOS Questa opzione Qualora non si presentasse Questa schermata Per poter avviare Tramite CD o DVD Dopo che naturalmente Ha inserito Il disco di ripristino All'interno del lettore Dopo qualche minuto E una schermata intermedia Aggiungerai a questa Che ti permetterà Di selezionare Due tipi di ripristino Per ora Selezioniamo questo In seguito Attingeremo Ad un altro tipo di ripristino Questo perché ora Dovremo tentare Di risolvere I problemi Di avvio Del sistema operativo Dopodiché Cliccherai pure Su avanti Seguendo la procedura Si creerà Questo ambiente di ripristino E ad un certo punto Potrai selezionare Tra le varie opzioni Appunto Ripristino L'avvio Del sistema operativo In pratica Tenterà di risolvere Automaticamente Qualora siano presenti Dei problemi Per l'avvio Del sistema operativo Non è detto Che funzioni Ma comunque E' bene provarci Infatti Il sistema Dopo che hai cliccato Sul pulsante precedente Tenterà Da solo In maniera autonoma Di rilevare Eventuali problemi E cercherà Di risolverli La durata Sarà variabile Da pochi minuti Oppure qualche decina Di minuti Al termine Se tutto E' andato liscio A seconda Il riavvio Del computer E quindi Il sistema operativo Tornerà in vista E funzionante In caso contrario Dovrai agire In maniera Più drastica Che vedremo In seguito Da notare Che questa opzione Non ripristina File personali Quindi Nel caso in cui Tu avessi Perso Questi file Dovrai Attingere a un backup Dedicato Qualora tu Lo abbia generato In precedenza Allora Andiamo a vedere Come avviare Il ripristino Configurazione Di sistema Clicca sul pulsante Start All'inizio Come prima possibilità Poi vai su Pannello di controllo Al presentarsi Delle icone Del pannello Di controllo Individua Il pulsante Backup E ripristino Cliccaci pure sopra In questa nuova schermata Ripristina Le impostazioni Di sistema O l'intero computer Quindi clicca Sopra questo pulsante Accederai Alla schermata Di avvio Cliccando sul pulsante Apri ripristino Configurazione Di sistema Ma Ora vediamo Un'altra possibilità Di avvio Clicca sempre Sul pulsante Start Vai ad individuare Vai ad individuare Tutti i programmi E Cerca la cartella Accessori Cliccaci sopra Quando si apre La cartella Vai ad individuare La cartella Utilità di sistema Cliccandoci sopra Si apriranno Altre Icone Altri collegamenti Nella quale Troverà anche Ripristina Configurazione Di sistema Cliccando sopra Questo pulsante Si avvierà Naturalmente Altra possibilità Clicca sempre Sul pulsante Start Nella sezione Di ricerca Vai a scrivere Ripristina Configurazione Di sistema Già dopo Qualche carattere Comparirà La scritta Relativa E Clicca sul pulsante Ripristino Configurazione Di sistema Dopo questa Schermata Si avvierà La procedura Di ripristino Configurazione Di sistema In questa sezione Potrai Prendere visione Di quel che Accadrà Tramite questa Opzione E Al termine Puoi cliccare Su Avanti In questa nuova sezione Verrà mostrato Il punto di ripristino Più recente Qualora Tu ne voglia Selezionare altri Clicca su Mostra ulteriori Punti di ripristino Dalla lista Seleziona quello che Vuoi E poi Clicca su Avanti Qui avrai Un riepilogo Che ti evidenzierà Quale punto di ripristino Avrai scelto In termini di Data Ed ora Dopodiché Puoi cliccare su Fine Ad una Conferma Di ciò Che Avrai Scelto Clicca pure su Si Per continuare E avviare Appunto Il ripristino Di configurazione Di sistema Questa Sezione Sarà Totalmente Automatizzata Controlla che tutto Avvenga Correttamente E al termine Del riavvio Se Il problema È stato risolto Ti sarà Avviato Il sistema Operativo Ad un Determinato Punto di ripristino Quello che Avrai Selezionato Durante la Configurazione Dopo appunto La preparazione Del punto Di ripristino Avrà La disconnessione Quindi Il riavvio Del sistema Operativo Durante Il quale Si creerà Appunto Il ripristino Dei file Quindi Andranno ad essere Sostituiti Gli ultimi File Quelli attuali Con quelli Che avrai Selezionato Dal punto Di ripristino Quando avrà Quasi terminato Il sistema Ripristinerà Il registro Dello stesso Eliminando I file temporanei Che sono Inutili Per il funzionamento Del sistema Operativo E si riavvierà Il computer Il tuo scopo In questo caso È soltanto Controllare Verificare Che tutto Proceda Correttamente Al riavvio Avrai In visione Il sistema Operativo Completamente Ripristinato Alla data Date Impostata In questo caso Specifico Il 3 luglio 2013 Alle 10.35 Clicca su Chiudi Per terminare Il processo Il ripristino All'avvio Si avvierà Grazie a un disco Di ripristino Tocca un tasto Sulla tassiera Dopo aver inserito Il disco Nel lettore Verranno caricati I file Di Windows Dopo una prima Schermata Clicca su Avanti Per poter Accedere Alla Configurazione Verranno Ricercate Innanzitutto Le installazioni Di Windows Presenti All'interno Del disco Rigido Dopodiché Quando si presenta Questa schermata Potrai scegliere Il tipo Di ripristino In questo caso Dato che dobbiamo Ripristinare Dei problemi All'avvio Selezioniamo Questa Prima Opzione Dopo averla Selezionata E adesso Assicurati Che sia Windows 7 Clicca Su Avanti Nella schermata Successiva Si presenteranno Diverse opzioni Appunto Ripristino All'avvio Che servirà In questo caso A risolvere Automaticamente I problemi Che impediscono L'avvio Di Windows Oppure Ripristinare La configurazione Di sistema Cosa che abbiamo Visto Poco fa E quindi Ripristinare Uno stato Precedente O ancora Cosa che vedremo In seguito Ripristinare Un file immagine Grazie a Un backup Precedente Ma noi andiamo A cliccare su Ripristino All'avvio Per poter Ripristinare L'avvio Del computer E risolvere I problemi Di accensione Automaticamente Verranno Ricercati Eventuali Problemi E se sei Fortunato Se sei fortunata Verranno risolti Potrai annullare In qualsiasi momento Tale operazione E questa durata Può essere Variabile Da pochi minuti A diverse decine Di minuti In questo specifico Esempio Non è stato rilevato Alcun problema Grazie al fatto Che ho utilizzato Una macchina virtuale E il sistema operativo Era efficiente Per cui Clicca pure Su fine In un caso reale Con un problema risolto Clicca su Riavvia Per riavviare il computer In caso di Risoluzione dei problemi Il sistema operativo Dopo la sua Procedura normale Di avvio Si presenterà A te In bella vista E completamente Funzionante Nella prossima lezione Terminerò La trattazione Del ripristino Attingendo Ad altre opzioni Ora Un forte saluto Ciao a presto Dalla prossima Ciao a presto Grazie a tutti.